Ben trovati a Toscana Lavoro Anteprima. Parliamo di autonomia differenziata. Sarà la secessione dei ricchi? È possibile, questo è il rischio. Ci sarà la scuola del Lombardo Veneto, la sanità della Venezia Giulia, speriamo non quella del Gran Ducato di Toscano. Intorno all'autonomia differenziata la confusione è totale, non c'è un dibattito pubblico sul tema, non se ne parla in Parlamento su una cosa, però possiamo essere sicuri di una cosa, possiamo essere sicuri la CGL in campo. Dieci giorni fa un seminario, un convegno a Roma con il segretario generale Maurizio Landini, c'era anche la segretaria generale della Toscana, Dalida Angelini, due giorni fa un seminario a Roma della funzione pubblica CGL, ne parliamo con Mauro Fuso, segretario della CGL Toscana. Poi c'è il punto decisivo che Lombardia e Veneto, essendo regioni molto ricche, hanno un residuo fiscale, una trattenuta sul loro territorio molto scarsa, danno in solidarietà al resto del paese molte delle tasse pagate nel loro territorio. Se salta questo, salta naturalmente la possibilità che la fiscalità generale copra tutto lo Stato, anche le regioni deboli, sui settori che abbiamo detto prima, quindi la sanità, l'istruzione, il mercato del lavoro, tutti ambiti che hanno bisogno nelle regioni più povere di essere sostenuti. L'Italia spezzata, della E45 in Toscana non è che se ne parli molto e invece si è incominciato a parlarne quando un magistrato ha chiuso un viadotto e su quella strada non si transitava più. Si è anche scoperto che la strada secondaria, la Tiberina Trebisse, la statale, era non praticabile, c'erano cadute delle frane, nessuno aveva tolto quelle frane. Da qui problemi, problemi molto grossi, non solo per il traffico centro-norde o sud-norde, ma soprattutto per le attività della zona che per consegnare le proprie merci devono fare dei giri infiniti. Ne abbiamo parlato con un rappresentante della CGL, le telecamere di Toscana Lavoro sono andate sul luogo. Però è fondamentale che questo tratto vengano aperto prima possibile anche al traffico pesante perché poi è quello che porta economia sia nella tratta ma anche in economia nel territorio che in assenza di questa struttura si trova anche un aumento dei costi e quindi a distanza del tempo anche una perdita di competitività nel mercato. Lavoro precario all'ombra del David, uno non se lo aspetta eppure è così, si va avanti di appalto in appalto e mancano le clausole sociali. Ne abbiamo parlato con Giuseppe Martelli della Filcap CGL di Firenze e con due lavoratrici precarie, manco a dirlo. C'è una forma di clausola blanda che ci garantisce sul numero però che non ci garantisce sulla paga che secondo i nostri calcoli dai numeri che hanno messo l'oro nero su bianco rischia di creare una perdita di salario netto di un 30%. Lo SPI della Toscana rafforza la propria presenza nel territorio, è stata aperta una nuova sede a Seano, c'era la segretaria generale dello SPI, Daniela Cappelli, una sede certo per i servizi agli iscritti della CGL ma non solo, per servizi per i cittadini della zona. Facciamo un'operazione di richieste che rafforzino la politica, l'economia e le risposte per le persone e poi diamo anche luoghi e sedi dove le persone possano regarsi per i bisogni che possano avere giornalmente. Ed è tutto per Toscana Lavoro Anteprima, vi abbiamo presentato alcune pillole, come sempre non ne vi accontentate, guardate i servizi domenica alle 14 su Toscana TV, canale 18 del digitale terrestre, buona visione.